buongiorno a tutti io sono chiara e come ogni domenica vi parlo dei quadri che mi hanno particolarmente colpita e a cui sono affezionata oggi è il primo maggio festa dei lavoratori e vorrei parlarvi del quarto stato di pellizza da volpedo giuseppe pellizza nasce a volpedo in provincia di alessandria nel 1868 studia milano presso l'accademia di brera dopodiché si sposta a roma firenze e bergamo il suo insegnante più importante è giovanni fattori esponente dei macchiaioli ma giuseppe pellizza si sente più affine a un nuovo movimento artistico quello divisionista il divisionismo è una corrente che abbiamo accennato qualche mese fa parlando del pittore francese sera e della sua domenica pomeriggio sull'isola della grande jatte i pittori divisionisti sostituiscono la pennellata tradizionale con uno stile composto da linee e punti e per ottenere un colore secondario terziario non mischiano i colori primari sulla tavolozza ma li affiancano direttamente sulla tela con brevi tratti e puntini sfruttando poi la rielaborazione cromatica che attua la retina dell'occhio umano nel 1894 pellizza espone a milano il suo quadro sul fienile che rappresenta l'inizio di questa nuova scelta pittorica ed è la prima tela in cui cerca di applicare scrupolosamente i principi del divisionismo il pittore assieme a segantini e previati è il più giovane dei tre protagonisti principali del divisionismo italiano e anche il più rigoroso tuttavia pellizza rispetto agli altri due artisti da all'arte un ruolo sociale tra il 1890 e il 1901 la sua pittura che si ispira scene popolari di vita cittadina e contadina diventa sempre più attenta ai temi sociali e si orienta verso una concezione simbolica pellizza attraverso le sue opere attua una sorta di denuncia diventano oggetto di studio e di rappresentazione i processi sociali del paese dalla situazione del movimento operaio alla urbanizzazione irrazionale alla realtà del mondo contadino e qui arriviamo al nostro quadro la genesi del quarto stato è molto lunga il pittore dipinge nel 1891 gli ambasciatori della fame e poi fiumana nel 1896 nel primo quadro si intravede la piazza principale di volpedo tre contadini che avanzano e una folla indistinta sullo sfondo davanti c'è un'ombra che è quella del palazzo comunale di volpedo verso cui i contadini incedono nel secondo quadro c'è molta più gente e sia i colori che i tratti dei personaggi sono molto più strutturati e studiati approda infine alla genesi del quarto stato ispirato da un evento che lo colpisce particolarmente a milano avviene una brutale repressione da parte dei militari nei confronti del popolo il popolo milanese infatti protesta per l'aumento del prezzo del pane e per le condizioni di lavoro disumane ma a questa manifestazione si risponde con la violenza e alla fine perdono la vita oltre 80 civili pellizza a questo punto decide di realizzare un dipinto utilizzando dimensioni grandiose circa tre metri per cinque metri e mezzo con le figure a grandezza naturale i personaggi che nelle versioni precedenti costituivano in gran parte una massa indistinta assumono maggior caratterizzazione individuale e sullo sfondo si intravedono solo dei vaghi dettagli della piazza di volpedo facendo assumere così alla rappresentazione un valore universale privo di riferimenti a determinati eventi e luoghi e quindi collocabile ovunque per tre stati quindi tra il 1898 e il 1901 pellizza dipinge dal vero e coinvolge tutto il paese di volpedo nella realizzazione dell'opera per i personaggi infatti i cittadini si prestano a far da modelli a cominciare dalla moglie di pellizza teresa la cui fisionomia si ravvisa nella donna col bambino al centro della scena pellizza di base cerca una sintesi tra classicità e modernità si ispira insomma ai grandi classici come michelangelo raffaello e leonardo all'antica grecia anche fa dei grandi disegni su cartone disegni preparatori che rappresentano uomini donne con forme plastiche tratti ben precisi un'anatomia studiata e un accurato utilizzo del chiaroscuro pellizza quindi come punto di riferimento i canoni classici della bellezza ideale e da qui parte per cercare poi di trasformare in archetipo la quotidianità e la cronaca legate al suo tempo la mano del personaggio centrale per esempio riprende quella del david di michelangelo un'altra riprende quella di aristotele nella scuola di atene di raffaello altri richiamano altri personaggi sempre della scuola di atene o dell'ultima cena di leonardo la stessa composizione orizzontale si ispira alla struttura dei fregi dell'antica grecia la scena infatti si sviluppa orizzontalmente c'è una fascia centrale riempita dalla folla e questa folla è movimentata è formata da persone contadini nello specifico che rivolgono lo sguardo in più direzioni e compiono dei gesti dei gesti molto naturali ci sono uomini per lo più ma anche donne e bambini ciascuno con la sua posa e importante nella creazione dei movimenti è proprio il ruolo delle mani in parallelo la struttura orizzontale si sviluppa anche un movimento che viene in avanti verso lo spettatore al centro infatti ci sono tre persone un uomo seguito da uno più anziano e da una giovane donna con un bimbo in braccio l'uomo al centro è il fulcro dell'intera scena divide in due quel quadro e la luce lo colpisce in pieno tanto da pensare che proprio lui sia il capo della protesta l'incedere tuttavia non è riottoso ma lento e sicuro l'obiettivo del pittore infatti è quello di rendere la fiumana inesorabile con un procedere verso l'osservatore non violento ma fermo pacato tale da richiamare la sensazione di un'invincibilità ineluttabile la classe contadina e operaia è ormai consapevole della propria forza è unita ed è imbattibile non ha bisogno di urlare né di dimenarsi ormai sa di avere un potere ed è sufficiente che proceda in questo quadro il pittore coniuga quindi realismo monumentalità divisionismo e impegno sociale il titolo originale dell'opera fino a quando non è terminata è cammino dei lavoratori solo ad opera completata pellizza decide di dare un nuovo titolo il quarto stato per l'appunto il quarto stato però non viene ben accolto nell'intento dell'autore è destinato all'esposizione universale di torino del 1902 ma viene rifiutato per il forte impatto sociale pellizza riesce però a farlo esporre alla quadriennale nello stesso anno ma la tela rimane invenduta e per molti anni giace nello studio del pittore anche dopo la sua morte giuseppe pellizza non si capacita di come cerchino di osteggiare un'opera simile e cade in una profonda condizione di tristezza e disillusione tanto da riprendere la pittura all'aperto con paesaggi e scene di campagna questo evento unito poi alla morte della moglie mentre dalla luce il loro primo figlio maschio lo porta a uno stato di disperazione tale che decide di togliersi la vita a soli 38 anni ma il quarto stato censurato dalle autorità e dagli ambienti ufficiali è destinato a diventare una grande opera nella critica militante nel pubblico dell'epoca si diffonde attraverso innumerevoli riproduzioni nei circoli operai nelle case e diventa ben presto un simbolo della lotta di classe e un'icona per le società operaie nei decenni successivi viene utilizzato nei modi più svariati è riprodotto su francobolli diviene il manifesto del partito socialista italiano e in generale è l'immagine più riprodotta in ambito politico e sindacale la compattezza della folla che avanza ha un impatto visivo così imponente da essere ripreso in ambito cinematografico in ambito pubblicitario e addirittura fumettistico oggi il quadro è conservato presso il museo del novecento a milano ed è posto in una sala prima della biglietteria in modo che chiunque possa vederlo senza per forza pagare il biglietto è quindi gratuito ed è per tutti in linea con il pensiero sociale del pittore della sua arte bellizza dice sento che ora non è più l'epoca di fare l'arte per l'arte ma l'arte per l'umanità se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati noi ci vediamo il prossimo weekend